Si riconosca lo stato di calamità naturale. La moria degli olivi salentini potrebbe avere conseguenze pesantissime dal punto di vista ambientale ed economico. Per questa Italia nostra la prima a lanciare l'allarme oltre un mese fa fa appello alle istituzioni locali perché si adottino i provvedimenti volti a chiedere al Governo nazionale il riconoscimento dello stato di calamità necessario per attivare i programmi finalizzati ad una più approfondita conoscenza della patologia per l'adozione ancora di provvedimenti necessari alla rimozione del problema e per il reperimento delle risorse finanziarie per un ristoro dei danni ai titolari degli oliveti interessati dal problema. L'individuazione della causa del rinsecchirsi degli olivi d'altronde lascia spazio a pochi dubbi. Il batterio riscontrato, xylella fastidiosa e infettivo, inserito nella lista nera europea di quelli da quarantena, mai presente finora in Europa. Il rischio che il Salento faccia dunque da testa di ponte per il resto dell'Italia non solo, c'è tutto. Dei provvedimenti da adottare o almeno da proporre martedì nella seduta straordinaria appositamente convocata del Comitato Fito-Patologico nazionale. Si discuterà lunedì mattina a Bari nella riunione dell'unità di crisi che si sta occupando del tema. Certo, molto è ancora da definire. Non si conosce la vera portata della presenza di questo tipo di batterio sugli 8.000 ettari colpiti tra Gallipoli, Ugento, Taviano, Racale, Parabita, Melissano. Non si sa se le piante, ancora da quantificare, siano destinate alla morte o possano essere salvate in qualche modo. Non è ancora definita. Inoltre, la relazione tra questo tipo di batterio e il fungo riscontrato in tutti i campioni prelevati dagli studiosi. Insomma, si naviga a vista, ma almeno con una certezza. L'infettività comporta il riconoscimento della quarantena, vale a dire l'isolamento della zona contagiata, attraverso almeno il blocco in loco della legna e delle ramaglie e il divieto delle potature. Nessun problema, per fortuna, almeno per quest'anno, per le olive e la produzione di olio. Se per la prossima annata, invece, il batterio avrà fatto incetta di alberi e raccolto. È ancora incerto. Si spera, infatti, che l'arrivo delle gelate invernali possa bloccare le cicaline che fanno da vettore nel propagare il contagio su eventuali rimedi fitosanitari. Invece c'è l'appello degli esperti a bloccarsi, inutili, dispendiosi e dannosi. Anzi, l'insistenza di alcuni rappresentanti di aziende di pesticidi fa venire a Galli il rischio speculazione. Certo, c'è l'emergenza in primis ad affrontare, ma poi c'è una riflessione da fare. Non pare sia possibile che Xylella fastidiosa sia comparsa nel Salento a causa di un traffico internazionale di olivi che non c'è stato. Al contrario, non si sa come e quando l'insetto vettore sia arrivato qui. Il sospetto che possa essere stato importato dall'estero attraverso l'ingresso incontrollato di piante, come accadde per le palme, non è remoto. Tra l'altro, ricorda Italia Nostra, in questi ultimi tempi patologie similari hanno interessato anche altre essenze arboree, come alcuni boschi di Lecce, a Castro e a Tigiano, dove sono stati necessari provvedimenti drastici. Con quegli strumenti si affronta tutto questo. Le lance sono spuntate. Basti pensare al container pieno zeppo di bonsai di olivo arrivato dall'Asia nel porto di Taranto lo scorso 2 ottobre. Controllare tutte quelle piante con poche forze e scarsi mezzi è risultato impossibile.